A Troina la quinta vittima di coronavirus. Una suora laica consacrata all'Oasi Maria Santissima è morta questa mattina all'ospedale Umberto I di Enna. Oggi l'istituto nell'Ennese conta 166 casi positivi, di cui 102 pazienti e 64 operatori. Epidemia colposa e omicidio colposo sono le ipotesi di reato sulle quali la procura di Enna ha aperto un fascicolo contro ignoti riguardante la vicenda dell'Oasi di Troina. La polizia giudiziaria, incaricata dal procuratore di Enna, Massimo Palmeri, ha depositato una informativa conoscitiva sulla vicenda. Un'inchiesta seppur conoscitiva per verificare se sussistano profili penali nella diffusione del contagio è stata aperta anche su Villa delle Palme, la struttura per anziani di Villa Frati, divenuta uno dei focolai in Sicilia. 74, di cui 50 anziani e 24 operatori, le persone risultate positive al virus che ha già mietuto 11 vittime nella casa di riposo. L'ultima, una donna di 86 anni che era ricoverata al Covid Hospital di Partinico. Si aggrava il focolaio nella clinica Villa Maria Eleonora, Palermo, 33 positivi, di cui 3 operatori. In totale sono stati effettuati 204 tamponi. L'assessorato regionale alla salute ha disposto un'ispezione nella struttura. Le zone rosse dei comuni di Agira, Troina, Villa Frati e Salemi sono state prorogate fino al 3 maggio. L'ordinanza è stata firmata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci nei quattro comuni siciliani. Sarà quindi ancora vietato l'accesso e l'allontanamento dal territorio comunale, nonché la sospensione di ogni attività, salvo quelle essenziali.